E ora è qui, nel Provenzano DJ Show, con il suo spazio Insane, Maurizio Gubellini. Per salire signori e signori, andiamo in alto come gli ascensori. Ogni settimana i mix migliori, con i top DJ nei tuoi diffusori. Pronto per l'ospite su M2O, tira su le mani, guida, oh, alla console. Maurizio Gubellini, solo nel Provenzano DJ Show. Ciao a tutti, da Maurizio Gubellini, in questa puntata di Insane Zone, all'interno del Provenzano DJ Show, voglio proporvi alcuni bootleg e mashup. Il primo brano di oggi è un bootleg di Takeshi Kurosawa e Peruz, fatto utilizzando la voce di Allows You, dei Jungle Brothers. Ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti. 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti